Musica Musica Con il numero 49 Magic Corazon Figlio di Magic Monami e Cici Magic Contessa Fontanella Magic Arabians proprietario allevatore 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 19 e 19 in tipo Testa e collo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18, 18 e mezzo, 18 e mezzo Dorsa armonia, 18, 18, 18, 17 e mezzo, 18 e mezzo Arti, 16 e mezzo, 15 e mezzo, 15, 15, 16 Movimento 19, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo 446 punti e mezzo il totale per il numero 49 Magic Corazon Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.